Buonasera e benvenuti alla pagina sportiva del nostro TG. Apriamo con il campionato di Lega Pro Girona che è arrivato all'ultima giornata di regular season. Tutti in campo domani alle 16.30 per gli ultimi verdetti. Andiamo a vedere le gare in programma. La classifica 90 minuti dalla conclusione del campionato. Tutto ancora da decidere in testa dove Cremonese e Alessandria sono appaiate con 75 punti. Solo una delle due sarà promossa in Serie B al termine della giornata di domani. Poi le posizioni playoff con il Livorno, quota 66, Arezzo 65, Gianerminio 60, Piacenza Como 58, Viterbese 53, Lucchese e Pro Piacenza 51. Poi Renata quota 50, Pistoiese e Pontedera 43. La zona playoff aperta da Roburziana con 42, Olbia e Prato a 39, Prato Carrarese 38, Tuttoquoio 37, Lupo a Roma 32 punti, Racing Roma 30 punti. Tutto da decidere anche in coda dove il Prato con un successo terrebbe la salvezza a pato che non avvenga anche una contemporanea sconfitta del Siena. Prato che sarà impegnato a Piacenza all'intervista di Vezio Trifoni, allenatore biancazzurro Francesco Monaco. Ultima gara di campionato, gara decisiva, il Prato ha fatto un grosso passo a Valti con la vittoria in casa con Gianerminio, ora diciamo in zona salvezza, quindi vincendo il Prato sarebbe salvo. Sì, è vero, abbiamo fatto un girone di ritorno entusiasmante, adesso manca l'ultima gara, importantissima, però sappiamo pure che incontriamo una squadra che anche loro cercano di scavalcare qualche posizione per i playoff, per cui sarà una partita molto tosta, molto decisa per entrambe le squadre, però sulla carta noi dovremmo avere un pochino più fame, però questo lo vedremo domani. Un Prato che arriva al completo per questa gara con tutta disposizione e soprattutto con un morale alto. Sì, quasi tutti, ce l'abbiamo qualche uno un pochino così e così, però gli altri stanno tutti bene, vedi Carcuro che in settimana ha avuto qualche piccolo problema, lo stesso dicasi di Beduschi, però gli altri stanno bene. Per cui sappiamo l'importanza della gara, è inutile fare tanti giri di parole, sappiamo che noi dobbiamo dare tutto quello che uno ha come abbiamo sempre fatto e poi a fine partita vediamo un po' se siamo riusciti nell'impresa. Sicuramente da parte nostra, da parte di tutti, c'è il massimo impegno, la massima voglia, la massima determinazione per raggiungere un traguardo che era inaspiattato, però adesso ce lo siamo guadagnati sul campo e vorremmo prenderlo. La trova da ex perché è allenato per due stagioni a Piacenza, quindi conosce bene l'ambiente. Sì, sono state due stagioni sotto il profilo dei risultati, non tanto positivi perché il primo anno in Serie C siamo retrocessi proprio contro il prato ai play-out, il secondo anno in Serie D con questa nuova società, c'è stato l'esonero a gennaio, però sono situazioni che capitano, devo dire che sotto altri aspetti sono stato bene perché la gente mi ha sempre dimostrato massima fiducia e mi ha sempre incitato a andare avanti. Tra l'altro saranno tanti garilli anche da Prato, questo fa piacere anche perché è ritornata anche la voglia di venire a vedere il Prato. Questo fa piacere perché dovevamo essere noi e penso che nel girone di ritorno l'abbiamo fatto, fa ritornare i tifosi al campo con delle prestazioni importanti e anche con le vittorie. Fa piacere che domani ci siano tanti pratesi a Piacenza e mi auguro tutto il cuore di dargli una grossa soddisfazione.